Buonasera Selinunte, benvenuti alla seconda serata di Turi Live Music, questa sera a farci compagnia gli Slow Jets. A tutti una buona serata e buon ascolto. E che si fa in questi casi? Si presenta, vero? Malve, noi siamo in Slow Jazz, ve l'avevo già detto, ma soprattutto siamo Nadia, che è la nostra cantante, per la quale vi chiedo un applauso. Senza la quale noi non saremmo sempre gli stessi. Il prossimo brano, nonché il primo, è dedicato a questa notte, Selinuntina si dice, perché ha fatto le scuole alte, così. E il titolo è Night and Day. Grazie. 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 Sì 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 Sì